Musica Bello ragazzi bentornati qui sul mio canale come sempre E' Drake che vi parla e oggi ragazzi siamo qui Sul vlog di Capodanno Ma perchè sto facendo questo vlog? Perchè non ho un cazzo da fare Sono solo come un cane a casa quindi mai Una gioia Si? Appunto perchè oggi è 31 e non ho un cazzo Da fare ho detto perchè non vloggare Questo giorno almeno sto in compagnia Di persone che mi sono state vicino Tutto l'anno sei dolce Drake Sei dolce? Basta E con di nulla ragazzi benvenuti al vlog Di Capodanno 2016-2017 Premettendo che io fino a ieri Cioè giorno 30 avevo la febbre Non mi sento ancora bene Tanto per finire l'anno in maniera bellissima Comunque io ho iniziato a vloggare Un po' troppo presto perchè ancora Sono le 3 di pomeriggio E quindi non so cosa straminchia fare Regà guardate quanto è bello massimo Versione natalizia Mamma mia Troppo bello lo so E poi nella mia stanza Pensate un po' Ho messo anche gli haters Direzione bagno Doccia ciao Ti chiamo Porca ma E nulla adesso Starò nudo Fra 3 2 1 1 Volevi Volevi Guarda che faccia Non se lo basta Mi spiegate perchè sta minchiata No non lo capisco Finiis Yeah Yeah 1 2 2 3 2 3 Perchè si ragazzi ovviamente Drake si fa la piastra, perchè sono i capelli, scassano il cazzo Ma la bucchina è mamma, la bucchina è morta, è stramorta, va fammi Ciao, volevi cadere, volevi cadere, stronza Sì ma porco cane, tutto deve cadere, ovviamente non possono, è porco cane, devi sempre cadere, stai ferma Ovviamente non può, ti stai ferma, non lo so, devi sempre cadere, va bene, brava Ovviamente non possono mancare gli anelli, quindi one per mandare a fanculo e two per più o meno mandare a fanculo E finalmente bucchina è mamma, ma che morta, fermo Ciao eh, sì sei una troia Ti metto all'angolo così non mi scassi il cazzo Fuoca Dopo anni abbiamo finito e quindi possiamo uscire dal bagno Ma non chiedetemi perchè sto parlando con uno specchio, quindi adesso andiamo Ciao Ok c'è stato un grandissimo distacco, sono passate tantissime ore Ed è sera, a che ore sono? Non mette a fuoco Non mette a fuoco Vabbè comunque sono le sette e mezza perchè mi sono rotto il cazzo a mettere a fuoco, non mette a fuoco Ciao Che giorno è oggi? Boh Come boh? Non me lo ricordo Non me lo ricordo Oggi è 31 e il capodanno e non me lo ricordo Cristiano, Cristiano, la potete le provate? Era già oggi il capodanno e manco no Ma ero proprio scemo la questione Ma pari, sì scemo Lo so La rifacciamo quindi? Sì Aspetta Samuele Che giorno è oggi? Capodanno Ma hai visto? È bravo E non è scemo come ragazzo eh Quali sono le tue doti? Oh ma che ne sai? Con la bottiglia Fai vedere, fai vedere Oh epico, finito male L'altra volta però vedi che ce l'ho fatta quasi nel tavolo eh Sì, è proprio quello, esatto Massimo ce l'ha fatta, Massimo ce l'ha fatta Tu non vali niente, Massimo 1, 2, 3, MLG Massimo è più bravo di te Voglio vedere tu come la fai Eh eh eh, guarda, guarda Io sono fortissimo, guarda Guarda, 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 guarda il cazzo che me ne frega Scappa fresca Vediamo i gusti di mio fratello Allora, tu chi segui su YouTube? Allora Alcune volte Ehm Questa è la parte che devi tagliare Io mi orgoglio perché... No dai, veramente dai Eh dimmi, no dai, ti giuro Perchè mi vieni sta faccia? Ok, adesso sei con il tuo simile Adesso ti vuoi esprimere, dai Cosa è che è il mio simile? Eh, lascia stare Ehm Chi segue allora su YouTube? I mate Esci dal video E poi? Ehm Feloce Dai Dai Drake lo segui? Qualche volta Esci, esci 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 Se mi lasci non vale Se mi lasci Guarda, guarda Uno, due Ciao Zampa 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 Ah si te ne vai, ok A te non te la dà Cos'è che non me la dà? La zampa Eh vabbè Di solito le cagne mi danno altro Però vabbè Dove lo vedete? È un tavolo così Guardate che spettacolo, regà Che spettacolo Mamma mia E poi c'è lui Uè, voglio un bello su 2016 Wow E poi c'è lui Che? Non ce la fa neanche a mangiare, guarda Ehi Dai, lei però Sto mangiando Un filmpio Nooo Solo per Drake Mamma mia Solo per me Ma addirittura Piatto svizzero soltanto per me Un bello Un po' si Volevi eh? Che c'è? Oh Cristiano 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 Bo Dai basta Non hai fastidio poi Non hai fastidio poi L'ultima ora del 2016 Ah Allora 60 minuti Uè, voglio un bello st'orologio Ma che cos'è? Eh Uè, voglio un bello st'orologio Dillo nonno Uè, voglio un bello st'orologio Uè, voglio un bello st'orologio Nonno Tu che sei napoletana lo potresti dire? Che cosa? Com'è bello st'orologio? Uè, voglio un bello st'orologio Uè, voglio un bello st'orologio Uè, come è bello st'orologio? Ma non è deficiente sta frase Manca pochissimo alla mezzanotte E c'è Samuele che sta dormendo Basta con sti video Basta con sti video Pisciata dedicata a tutti gli haters L'ultima pisciata del 2016 Pensate un po' E ovviamente non poteva mancare la serata con Gigi D'Alessio Ragazzi in questi pochi minuti che mancano voglio ringraziarvi per quest'anno È stato un anno stupendo È stato un anno importantissimo per me su YouTube Ringrazio tutti i miei fan Ringrazio Massimo Ringrazio la Z Crew Tutti, tutti Ringrazio tutti È stato un anno fantastico Sotto quest'ambito Perché poi negli altri campi ha fatto altamente schifo Ma lasciamo stare E niente ragazzi Spero che nei prossimi anni riuscirò E riusciremo a creare una famiglia ancora più grande di quello che è adesso E niente ragazzi Basta con le cose dolci Perché mi sta avvenendo il diabete E quindi E quindi un cazzo perché ho la tosse Mancano due minuti Ultima che le parole del 2016 Ma perchè me sassiamo Ultime parole del 2016 Ultime parole Le parole Veloce E' andata Ok Ultime parole del 2016 Ultime parole del 2016 Checiikan sempre in internet ma fa imasca Ultime parole del 2016 Ok 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 Ok, Samuele, ultime parole del 2016 Fiiiic Tririii Vabbè, tu non conti nulla 2 nel 16 di perda 10 9 8 7 5 3 2 1 Auguri Viva l'Italia Si sboccia Si sboccia Entriamo sono i vicini Mi prendono per il culo Ancora sparano Non lo metti Non è vero Forza con i clickbait Il bicchiere è spacca Il 2017 è iniziato E già mi fa cagare Però va bene Vuoi i propositi per l'anno Arribare a un milione di iscritti So grandissimo cazzo La parte più brutta del capodanno E rispondere ai numerosi messaggi Di persone che non ti hanno mai gregato nella vita Però auguri Alla faccia Stanno per digerire e mangiare Si l'ho rubato Si sboccia con lo sfumante Tu non hai visto nulla eh Auguri massimo No eh No vabbè ok E ovviamente iniziamo il 2017 con Benji e Fede Ok ragazzi sono passate tipo 2-3 orette Dall'ultima parte del vlog E nulla ho semplicemente continuato la serata Facendo un pochettino il coglione Ma d'altronde Come sempre Ovviamente la tosse non mi passa Neanche è morto però vabbè Auguro anche a voi Un bellissimo 2017 Anche se a me il 17 sta sul cazzo Però vabbè Lasciamo stare Questo video è giunto al termine Spero vi sia piaciuto Spero che questo vlog vi abbia intrattenuto Vi abbia E niente ragazzi lasciate un like Condividete il video Commentate E soprattutto Passate in descrizione Dove trovate tutti i social E i canali della crew E qui come sempre da Drake Massimo Il 2016 lasciato E il 2017 Che purtroppo E' venuto E vabbè E' tutto Adesso dormo Ciao Ciao